Siamo qui in compagnia degli amici di Horizont Vela e oggi Wind Skate, cosa ci racconti? Hai provato per la prima volta nella tua vita il Wind Skate, allora come è andata? Il Wind Skate è veramente pericoloso, molto pericoloso Per me la sensazione è che se cadi dal Wind Skate vai a finire direttamente all'ospedale Ti fai proprio male Non è come cadere in acqua diciamo, è come cadere sulla cannavella Eccolo qua! Ma nella vita caro Gianni viene a correre dei rischi Non è così semplice come vedete Eh sì, è davvero difficile, infatti prima Sembra facilissimo Hai fatto un back loop non volendo Ti sei catapultato nella vela facendo un doppio forward con la tavola in aria Ho provato la manovra e non è andata benissimo però insomma E' andata, è andata Lo stile avete potuto apprezzare E abbiamo qua il co-inventore del Wind Skate Dopo Jean Drake Oh, ecco là Beh dai facci una manovra spettacolare, dai Spettacolare Un back loop, dai Dai, un bel back loop, dai Oh Oh Grazie.